Il MoVimento Liberazione Nazionale 2 Sicilie Il MoVimento Liberazione Nazionale 2 Sicilie Un'esigenza che nasce da? Nasce dalla presa d'atto che l'Italia da 160 anni tratta questi territori come una colonia e allora bisogna inventare una nuova strategia per uscirne, alla lettera per uscirne perché noi praticamente siamo stati inglobati nell'Italia senza consenso popolare e con le leggi internazionali infrante da Ressa Voia quindi io non penso che noi dobbiamo uscire dall'Italia non siamo mai stati italiani, bisogna soltanto prendere atto di questo sembra un'esagerazione ma è la verità dal punto di vista del diritto internazionale perché i crimini contro i popoli non vengono sanati dal tempo non c'è un'usucapione dei diritti dei popoli i diritti dei popoli una volta conculcati durano sempre allora io mi rifaccio a questi diritti e ai nostri sacrosanti doveri di reclamarli e di portarli avanti da sempre chi vive questo universo straordinario che è quello dell'identitarismo si parla di mettere assieme movimenti, di fare un'unione poi chiunque ci provi alla fine risulta un fallimento sempre qual è la sua ambizione? io essendo molto esperto di questo ho visto che è stato chiesto una domanda ed è vero, la mia ricetta è questa bisogna trovare il mondo di fare delle azioni importanti azioni importanti anche a sorpresa azioni eclatanti e gli altri che sono non con noi quando vedranno che si fanno delle cose importanti sarà spontaneamente gireranno e verranno con noi ultima domanda amministratile avete già un orientamento sicuramente politico cosa vi aspettate? ma noi chiunque abbia contatti con i partiti italiani, nazionali non abbiamo nessuna fiducia una volta si diceva che è importante gli uomini in ogni partito in cui appartengono no, non è vero è importante il partito in cui appartengono non gli uomini fanno l'altro che partito in cui devono obbedire al protocollo interno allora io appoggeremo sempre le persone oneste del sud come si dice che però non siano legati a questi partiti che ci si maltrattano da 160 anni non mi resta che fare un grande in bocca al lupo professore